ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono song e come avete già visto dal titolo oggi ritorniamo a parlare di investimenti ed in particolare investire nel mercato azionario cinese so che tanti investitori anche quelli che stanno facendo un pack cioè un piano di accumulo allocano quasi sempre una parte del loro capitale nei paesi emergenti ed in particolare in cina perché credono nella sua economia nella sua futura crescita e nei rendimenti che possa generare nel lungo periodo bene sappiate che anch'io faccio parte di queste persone tuttavia dovete sapere che il mercato finanziario cinese non è ancora così maturo come quello statunitense e dunque per investitori privati come noi investire nelle singole azioni è molto difficile a meno che non sia un'azione quotato nelle altre borse bisogna studiarlo analizzarlo e approfondirlo bene anche perché il mercato finanziario cinese è ancora nella sua fase di evoluzione di crescita e di apprendimento inoltre oggi come oggi solo investitori istituzionali che hanno la qualifica possono comprare direttamente le azioni cinesi quotati in cina quindi anche se uno approfondito studiato analizzato 360 gradi un'azienda cinese quotata in cina e vuole investirci è tagliato fuori dunque in questa fase secondo me è meglio investirci tramite etf ovvero fondi di investimento quotati in borsa perché hanno costi bassi sono gestiti passivamente in quanto si legano ad indici azionali e poi non devi stare lì a scegliere quali azioni comprare in quanto comprare un etf significa già acquistare un paniere di azioni e questo riflette meglio l'andamento di un intero mercato o di un settore rispetto al comprare singole azioni quindi qual è il migliore etf per investire nel mercato cinese due premesse prima di tutto primo è che non sono un consulente finanziario e tutto quello che vi sto dicendo sono solo il mio personale parere basata sulla mia esperienza e sulle informazioni che leggo e studio direttamente non solo dai media europei o americane ma anche da quelli cinesi quindi ragazzi anche voi ragionate fatevi una vostra opinione ed investite con consapevolezza e responsabilità secondo facciamo una piccola introduzione al mercato azionario cinese e quali sono gli indici più importanti da seguire e solo dopo andremo a vedere quali sono gli etf migliori ci sono due borse in cina dove vengono negoziati le azioni anzi da poco è arrivato anche il terzo c'è la borsa di shanghai cioè shanghai stock exchange e la borsa di shenzhen shenzhen stock exchange hanno una capitalizzazione rispettivamente di 7 e 3,9 trilioni di dollari poi a settembre del 2021 è stato introdotto anche la borsa di pechino ma per adesso le prime due restano le più importanti le azioni quotate nella borsa cinese sono suddivise in categorie le più importanti sono le a shares sicuramente almeno una volta lo avrete sentito nominare sono le azioni delle aziende cinesi denominate nella valuta domestica ovvero renminbi e quotate in cina le b shares sono azioni denominate in valuta estera e quotate in cina poi abbiamo le h shares cioè azioni delle aziende cinesi quotate nella borsa di hong kong le rs c chaine azioni delle aziende cinesi quotate nella borsa di singapore le n shares azioni delle aziende cinesi quotate nella borsa di new york e poi mi sembra c'è anche la l shares che sono le azioni delle aziende cinesi quotate nella borsa di londra però le più importanti sono le east years per chi vuole investire direttamente nel mercato cinese tace che sono le azioni delle aziende cinesi quotate in hong kong possono essere acquistate tranquillamente anche dagli investitori privati tramite brokers mentre le A shares possono essere acquistate solo da investitori istituzionali qualificati tramite lo stock connect. Per quanto riguardano gli indici azionari cinesi domestici beh ce ne sono tanti ma quelli più importanti secondo me sono solo questi sette. Il primo è la SSE Composite Index che sta per Shanghai Stock Exchange Composite Index racchiude al suo interno tutte le aziende della borsa di Shanghai sia A che B shares quindi questo indice riflette molto bene l'andamento della borsa di Shanghai. C'è tuttavia uno svantaggio in questo grosso indice cioè quando sale o scende non si capisce bene se sono le blue chips cioè le aziende grossi che lo stanno trainando oppure le piccole e le medie aziende che lo stanno muovendo. Ed ecco qui che ci viene in soccorso altri indici. SSE 180 questo indice comprende le 180 aziende più capitalizzate e performanti della borsa di Shanghai. Al suo interno ci sono aziende per lo più di medie e grandi dimensioni. Poi abbiamo la SSE 50 che sono le 50 aziende più capitalizzate più performanti e più liquide della borsa di Shanghai. Le blue chips insomma. Il quarto indice è la SSE Star 50. Questo indice rappresenta le 50 aziende tecnologiche ed innovative più grandi della borsa star di Shanghai ovvero quel segmento dedicato alle aziende startup tecnologiche ed innovative. Per incentivare le startup tecnologiche a quotarsi in Cina i requisiti per la borsa star di Shanghai sono molto meno restrittive di quelle normali. Poi abbiamo la SSE composite index è praticamente uguale all'SSE composite index ma per la borsa di Shenzhen ovvero comprende tutte le azioni quotate in questa borsa. SSE 100 invece è l'indice che traccia le 100 aziende più capitalizzate e performanti della borsa di Shenzhen. Molto simile al SSE 50 e molto importante perché combinato insieme alla SSE composite ti permette di capire se sono le aziende grosse a trainare in mercato oppure se sono le aziende piccole e medie. Infine abbiamo la CSI 300 creata dalla China Security Index Company da cui appunto prende il nome è forse l'indice più completo e che riflette di più l'andamento di tutto il mercato azionario cinese. Comprende le 300 aziende più capitalizzate della borsa di Shanghai e di Shenzhen. Per capirci meglio è la controparte cinese dell'SP500. Ragazzi ripeto ancora una volta che questi indici che ho detto sono gli indici del mercato azionario cinese domestico e quindi non include le aziende cinesi quotati per esempio nella borsa di Hong Kong. Finalmente arriviamo agli ETF che secondo me sono i migliori per investire nel mercato cinese domestico adesso. Il primo ETF è un ETF che va a replicare l'indice CSI 300 ed è la X-Trackers Harvest CSI 300. Costituito nel 2014 la capitalizzazione di questo fondo è di circa 500 milioni e a replica fisica ha un costo di 0,65% all'anno che è un pochino altino e il prezzo è sui 11 euro. È un ETF a distribuzione cioè i dividendi vengono distribuiti anziché reinvestiti. Per esempio io personalmente preferisco ad accumulazione però dipende molto dalle esigenze di ogni singolo investitore. Cioè un investitore giovane tende a preferire per esempio ad accumulazione perché reinveste i dividendi mentre gli investitori più anziani magari preferiscono la distribuzione. Il secondo ETF è sempre della X-Trackers e va sempre a replicare l'indice CSI 300 ma con caratteristiche un pochino diverso dal primo. Innanzitutto il fondo ha una capitalizzazione di 2 miliardi cosa molto buona perché è un fondo molto grosso rispetto a quello di prima che è solo 500 milioni ed è costituito nel 2012 quindi anche qui è stato costituito molto più tempo fa. Quindi anche da questo punto di vista è migliore del primo. È un ETF ad accumulazione quindi i dividendi vengono reinvestiti quindi secondo me anche da questo punto di vista è migliore del primo. Ha un costo di 0,5% e il suo prezzo è sui 15 euro. L'unica cosa che non mi piace tanto di questo ETF è il fatto che è a replica sintetica mentre io preferisco quella fisica in quanto ha un rischio più contenuto. Quindi tutti quegli investitori che magari valutano meno importante la replica di un ETF ma preferiscono avere più un fondo un ETF grosso con costo più basso ed accumulazione possono scegliere questo ETF piuttosto che il primo. Il terzo ETF è un fondo che replica l'indice MSCI China A. Introdotto da un'azienda americana di servizi finanziari con sede a New York appunto MSCI questo indice ha al suo interno circa 500 aziende cinesi sia i più grandi che i mid cap quotati nella borsa di Shanghai e Shenzhen. L'ETF in questione si chiama iShares MSCI China A. Ha una capitalizzazione di 2,4 miliardi ed è stato costituito nel 2015. È a replica fisica ed è ad accumulazione. Il costo è di 0,4% all'anno e il prezzo è sui 5 euro quindi caratteristiche molto buone. Se mi chiedete quale di questi due indici è la migliore cioè se è meglio CSI 300 o MSCI China A. Beh dipende ragazzi. Guardando per esempio le prime 100 posizioni più grandi di questi due indici sono molto simili. L'unica differenza è che in CSI 300 c'è Midea Gruppo un colosso di elettrodomestici cinesi mentre in MSCI China c'è China Tourism. Osservando inoltre i settori delle aziende nei due indici notiamo che anche qui sono molto simili con il settore finanziario e quello di consumo dominante. Se andiamo a guardare il rendimento storico dei due ETF sembrerebbe che la XTrackers CSI 300 abbia performato meglio del iShares MSCI China A. Infatti dalla loro introduzione la XTrackers è cresciuta del circa 143% mentre iShares solo dell'8%. Allora uno potrebbe dire molto meglio l'ETF della XTrackers. Vedi quanto è cresciuto. Invece questa differenza è spiegato solo dal fatto che l'ETF della XTrackers era stato introdotto prima cioè nel 2012 e dal 2012 al 2015 c'è stata una crescita consistente mentre l'ETF della iShares è stato listato solo nel 2015 e tra il 2015 e 2016 c'è stato un gran crollo. Infatti se compariamo i due grafici a cinque anni notiamo subito che l'andamento ed il rendimento dei due ETF sono molto simili se non praticamente identici. Insomma sta ad ogni investitore decidere quale scegliere non c'è uno migliore in assoluto. Tutti questi tre ETF di cui vi ho parlato sono presenti in DeGiro il broker finanziario che uso per comprare gli ETF in quanto uno dei pochi che ha le commissioni veramente basse. Qualora siete interessati vi lascio in descrizione il link invita un amico. Ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate e se avete uno di questi ETF nel vostro portafoglio oppure se avete investito in altri ETF sulla Cina? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Bene anche per questo video è tutto non dimenticatevi di lasciarmi un like ed iscrivervi al mio canale per supportarmi e alla prossima. Bye bye!